Ciao a tutti ragazzi, io sono TheShaker2.0 e oggi siamo su un altro nuovo video, ovvero una parodia che ho scritto io quando ero in Francia, che è stata la settimana scorsa e... è una parodia di Occidentalis Karma, ovvero Occidentalis Guarino e... possiamo partire con la parodia Classico o linguistico, il dubbio amletico, contemporaneo come una verifica alla prima or, nella tua classe due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei banchi, tutti studiologi Socio onora è il gruppo dei secchioni anonimi, l'intelligenza è free use, risposte facili, dilemmi inutili Ah 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 cerca sì, un bel voto in pagella facile, comunque vado a studierei, e un bel voto prenderei Letioni di francese, c'è la prof di inglese, per tutti un'ora d'aria di calma La scuola grida un mantra, la prof di storia in ciampa, io studio filosofia Occidentale Sguarino Occidentale Sguarino La prof di student sulle verifiche, mettiti in salvo dalla prof di matematica, tutti i tuttologi sul web, scuola dei geni, voto dei poveri Ah 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 cerca sì, pietà dei professori buoni, comunque vado a studierei, e un bel voto prenderei Letioni di inglese, c'è la prof di francese, per tutti un'ora d'aria di calma La scuola grida un mantra, la prof di storia in ciampa, io studio filosofia Occidentale Sguarino Occidentale Sguarino La prof di storia in ciampa Occidentale Sguarino Quando lo studente si distrae, calano i voti Occidentale Sguarino Occidentale Sguarino La media dei voti si rialza Namaste Ale Letioni di inglese, c'è la prof di francese, per tutti un'ora d'aria di calma La scuola grida un mantra, la prof di storia in ciampa, io studio filosofia Occidentale Sguarino Occidentale Sguarino Occidentale Sguarino Occidentale Sguarino Om